Cari amici, oggi vi racconterò del primo uomo che ha posizionato la sua testa lungo il percorso di un fascio di protoni ad alta energia. Quel giorno l'unica cosa che si frapponeva tra la testa di Anatoly Bugorsky e il fascio di protoni erano una porta aperta e una lampadina bruciata. Seguitemi e capirete il perché. Anatoly Petrovich Bugorsky, nato il 25 giugno 1942, dopo essersi laureato all'Istituto di Ingegneria Fisica di Mosca, fu assunto come ricercatore presso l'Istituto di Fisica delle Alte Energie di Protvino, a circa 100 km dalla capitale, dove lavorava alla sua tesi di dottorato seguendo alcuni esperimenti su dei rivelatori presso il più grande acceleratore di particelle dell'Unione Sovietica, il sincrotrone U70, che può accelerare i fasci di protoni fino ad energie molto elevate. Ma cos'è un sincrotrone? Cos'è un fascio di protoni? Esistono tipologie diverse di acceleratori, ma il sincrotrone è un tipo di acceleratore circolare nel quale le particelle di atomi vengono accelerate e trasportate all'interno di un tuo sottovuoto in apposite sale, dove vengono eseguiti esperimenti per scoprire interazioni sia sulle particelle sia su bersagli di ogni genere, con scopi di ricerca in molteplici campi, dalla fisica pura all'industria alla medicina, con importanti applicazioni anche nella cura dei tumori. Per capire cosa successe ad Anatoli il 3 luglio 1978, bisogna fare un po' di chiarezza sul funzionamento di queste complesse macchine. Ovviamente in questo caso mi riferirò alla passata configurazione del sincrotrone sovietico degli anni 70, dal momento che durante gli anni successivi ha visto implementazioni di vario tipo, seppur la sua energia massima sia rimasta invariata. In primis vi dico che U70 nasce per accelerare protoni. Nella maggior parte dei casi i protoni, assieme ai neutroni, compongono il nucleo di tutti gli atomi conosciuti, ad eccezione di uno, l'atomo di idrogeno, per la precisione il prozio, il cui nucleo è formato solamente da un protone, il quale rende l'idrogeno l'elemento più leggero in natura. Oltre al singolo protone è presente un elettrone che gli orbita intorno. Questo possiede carica elettrica negativa, mentre il protone possiede carica elettrica positiva. Sappiamo anche che cariche di segno opposto si attraggono, mentre quelle di segno uguale si respingono. Ma il legame tra protone e elettrone si rifà alla meccanica quantistica. Ancora adesso, le varie teorie di Bohr, De Broglie e Heisenberg sono allo studio per capire come orbita l'elettrone intorno al nucleo. Partiamo dal principio. Come ho detto prima, all'interno degli acceleratori passano e vengono accelerate particelle. Ma queste da dove nascono e come arrivano al sincrotrone? Il primo componente dell'acceleratore è la sorgente di ioni, che nel caso dell'U70 era una sorgente di tipo duoplasmatron. Questa serve a rompere il legame tra il protone e l'elettrone dell'atomo di idrogeno e quindi creare uno ione. All'interno della sorgente, che imparte in regime di alto vuoto, come tutte le parti dell'acceleratore che spiegherò man mano, ci sono quattro componenti principali e responsabili del suo funzionamento. Il filamento cattodico, l'elettrodo intermedio, l'anodo e il magnete solenoide. Attraverso una valvola di flusso, una piccolissima quantità di idrogeno a bassa pressione viene introdotta nella camera di ionizzazione dell'elettrodo intermedio in modo continuo. Il filamento cattodico, per effetto termoionico, emette elettroni all'interno della prima camera di ionizzazione. Gli elettroni emessi vanno a collidere con gli atomi di idrogeno ai quali in buona parte viene strappato via l'elettrone. Il magnete solenoide, per effetto del suo campo magnetico, contribuisce a compattare e a spingere gli atomi ionizzati verso l'apertura dell'elettrodo intermedio, che alimentato a scarica anodica intermittenti, lascia passare alcuni atomi ancora integri, gli ioni e gli elettroni, nella seconda zona di ionizzazione a più alta densità di carica, dove avvengono la maggior parte delle ionizzazioni. Sappiamo che il protone, a carica positiva, quindi con un gioco di differenze di potenziale, abbiamo la possibilità di estrarre i protoni attraverso l'elettrodo di estrazione a potenziale negativo. La sorgente di protvino eroga protoni con energia di 100 keV, a impulsi di pochi millisecondi. KeV? Che roba è? L'unità di misura per l'energia nel sistema internazionale è il Joule. Tuttavia, nella fisica delle particelle si usa normalmente l'elettronvolt e i suoi multipli. L'elettronvolt è definito come l'energia cinetica acquisita da un elettrone sottoposto a una differenza di potenziale di un volt. Dopo aver spiegato molto brevemente come si forma il plasma in questo tipo di sorgente, adesso cosa facciamo col fascio di particella estratto? Lo acceleriamo, o meglio lo pre-acceleriamo mediante due macchinari, l'RFQ Radio Frequency Quadruple e il DTL Drift Tube LINAC. L'RFQ produce un primo stadio di accelerazione del fascio, con in più le belle caratteristiche di messa a fuoco e raggruppamento dei protoni, dimensionando il fascio nel modo più adatto all'iniezione nel LINAC. Essendo una cavità risonante, inettando al suo interno un segnale in frequenza, viene generata una tensione RF quadrupolare tra le punte dei quattro elettrodi. Una particella che viaggia attraverso il canale formato dai quattro elettrodi vedrà un campo elettrico quadrupolare con polarità che cambia nel tempo, attraversando un canale di focalizzazione alternato. L'idea rivoluzionaria di uno dei suoi inventori è stata quella di aggiungere agli elettrodi che producono il campo quadrupolare dei profili sinusoidali sulle punte degli elettrodi. Questa lavorazione genera un ulteriore componente longitudinale del campo elettrico. Facendo corrispondere questo campo longitudinale con la velocità e la fase del fascio di particelle, è possibile utilizzare questa struttura per il raggruppamento e l'accelerazione delle particelle fino a 700 keV. Il principio e le tecniche dell'accelerazione del quadrupolo a radiofrequenza sono stati sviluppati all'Istituto di Fisica delle altre energie qui a Protvino ed è stato uno dei più notevoli risultati nella scienza degli acceleratori. Uscito dall'RFQ, il fascio viene inettato nel DTL di tipo Alvarez che a Protvino è composto da tre cavità acceleranti per una lunghezza totale di circa 80 metri. Come l'RFQ, il LINAC, che sta per Linear Accelerator, è una cavità a radiofrequenza dove le particelle viaggiano attraverso una serie di tubi schermanti chiamati Drift Tube e spazi vuoti, in gergo GAP. Nell'INAC i100, questo è il suo nome, viene immessa una radiofrequenza a 148,5 MHz, proveniente da un amplificatore che può arrivare a 5 MW di potenza. Il segnale viene trasportato tramite guida d'onda e immesso nelle cavità tramite un'antenna. Qui la particella viene accelerata quando si trova nel GAP, perché è lì che trova il segnale RF nel semiperiodo positivo. Ricordiamoci che il protone è carica positiva e ogni volta che incontra un campo elettrico positivo nel GAP viene accelerato. Come dicevo, ad ogni GAP la particella accelera, quindi bisogna che i tubi schermanti di cui parlavo prima abbiano lunghezze crescenti in funzione dell'accelerazione stessa dei protoni e della fase del segnale RF. Da questo grande LINAC i protoni escono con un'energia di 100 MW, pari a una velocità di 128.385 km al secondo. E adesso, tramite un sistema chiamato linea di iniezione composta da particolari magneti, il fascio di particelle entra nell'anello del sincrotrone, che è un tubo sottovuoto circondato da magneti. In realtà non è un vero anello perfettamente circolare, ma è composto da parti rettilinee collegate tra loro da curve in corrispondenza dei magneti di poli curvanti. Nelle parti dritte trovano posto i magneti che servono a focalizzare il fascio, i quadrupoli, e i magneti che servono a spostare la traiettoria sia sul piano orizzontale che su quello verticale, i correttori. Esistono altri tipi di elementi magnetici e diagnostici che non sto a elencare, altrimenti dovremmo scendere troppo nel dettaglio. Il sincrotrone ha una circonferenza, o meglio, un perimetro di 1483,63 metri, e dopo che il fascio di particelle è stato iniettato con l'energia impressa dall'INAC, ovvero 100 MeV, le particelle percorrono il sincrotrone fino all'elemento accelerante, la cavità radiofrequenza. Questa impartisce un'accelerazione di 170 KeV per ogni giro percorso, quindi tutti i componenti magnetici ed elettrostatici presenti devono essere sincroni con la cavità radiofrequenza e l'energia del fascio, che è direttamente proporzionale alla sua velocità. Per questo si chiama sincrotrone. Pensate che per arrivare alla massima energia di questo sincrotrone, pari a 70 KeV, il fascio deve eseguire qualche centinaia di migliaia di giri, ma tranquilli, li fanno in manciata di secondi. Arrivata alla sua massima energia, il fascio di protoni è prossimo alla velocità della luce, raggiungendo la velocità di 299.766 km al secondo, solamente 26,209 km al secondo in meno, e percorre l'anello circa 202.000 volte al secondo. A questa velocità ci basterebbero 4 ore e un quarto per andare dal Sole a Nettuno. Tuttavia, la notte del 14 ottobre 1967, nell'U70 è stata raggiunta un'energia protonica record di 76 GeV, con intensità di protoni pari a 1,10 alla 9. E nel 1976 raggiunsero il valore limite di intensità pari a 5,6 per 10 alla 12, cioè 5.600 miliardi di protoni. Questi numeri ci fanno capire la quantità di particelle per ciclo che passano nell'anello. Tornando ad Anatoly Bugorsky, sappiamo che il 3 luglio 1978 stava seguendo l'andamento di un rivelatore posizionato in una delle tante stanze che compongono la grande sala per esperimenti all'Istituto di Fisica delle Alte Energie di Protvino. Questo rivelatore veniva raggiato con protoni intorno all'energia massima di 70 GeV. Qui il fascio lascia la camera a vuoto e vola direttamente in aria, proseguendo fino all'oggetto da eraggiare. Quando Anatoly si accorse che uno dei rivelatori non funzionava correttamente, contattò la sala controllo e chiese agli operatori di interrompere l'erogazione del fascio nella sala in cui doveva recarsi da lì a 5 minuti. Il problema fu che Anatoly corse e arrivò davanti alla porta della sala prima dei 5 minuti patuiti con gli operatori. In più, quando le cose devono andare storte, l'allaggi di Murphy è sempre in agguato. La lampada che segnala la presenza di fascio accelerato in sala che avrebbe dovuto avvertire Anatoly di non entrare si era bruciata, molto probabilmente poche ore prima, e l'elettroserratura che doveva impedire l'apertura della porta era sbloccata. Il motivo? L'esperimento precedente era bassissime energie e il blocco della porta era stato disabilitato, ma si dimenticarono di riattivarlo. Questa è una vera stranezza. Al giorno d'oggi è impossibile entrare in una sala di raggiamento aprendo la porta, o meglio, è possibile aprire la porta, se proprio si deve fare, ma un sistema centralizzato di interblocchi inibisce immediatamente l'erogazione del fascio e nel caso di certe zone implica lo spegnimento automatico della macchina. Comunque, vedendo la luce spenta e la serratura sbloccata, dopo un attimo di esistazione Anatoly decisi di entrare. Andò verso il rivelatore e chinò la testa per osservare da vicino. Non appena la sua testa ha attraversato l'invisibile raggio di protoni, lo scienziato ha visto un lampo dallo descritto più luminoso di mille soli, ma non sentì dolore. In quel momento la sua testa venne attraversata dall'intenso fascio di protoni. Una serie di pacchetti, composti da miliardi di piccoli proiettili delle dimensioni trasversali di 2x3 mm, è passato lungo una traiettoria che comprendeva la regione occipitale della testa, la regione medio-basale del temporale sinistro, la piramide dell'osso temporale sinistro, il labirinto osso dell'orecchio medio, la cavità timpanica, il seno macellare e i tessuti dell'ala sinistra del naso. Anatoly si rese conto immediatamente di essere stato esposto al fascio di protoni, ma quel giorno non ne parlò con nessuno, completò il lavoro e notò nel diario della sala le informazioni sulla riparazione. Poi con un inquieto presentimento iniziò ad aspettarsi che comparissero i sintomi della malattia da radiazioni. Finita la giornata lavorativa, tornò a casa. La sera il lato sinistro del suo viso cominciò a gonfiarsi e dopo una notte insonne decise di andare dai dottori. All'inizio questi non credevano alla storia e rimasero perplessi su come potesse essere ancora in vita. Anatoly fu inviato urgentemente a Mosca, all'ospedale numero 6, specializzato nei trattamenti da radiazioni. I medici valutarono la dose di radiazione tra i 200.000 e i 300.000 Röntgen. Non si conosce la dose assorbita dalla testa di Anatoly, che viene valutata in grey. I documenti vennero subito classificati. Comunque, fortunatamente il percorso delle particelle non attraversò i centri vitali del cervello e i vasi sanguini. Però Anatoly purtroppo perse completamente l'udito dall'orecchio sinistro, la parte sinistra della sua faccia rimase paralizzata a causa dalla distruzione dei nervi e per anni soffrì di crisi epilettiche. Non ci fu praticamente alcun danno alla sua capacità intellettuale, ma la fatica da lavoro mentale aumentò notevolmente. Rientrato all'istituto nel 1980, Anatoly ha completato il suo dottorato di ricerca e ha continuato a lavorare come fisico delle particelle. In seguito è diventato anche coordinatore degli esperimenti scientifici dell'U70, contribuendo alla coordinazione dei successivi esperimenti. Anatoly adesso è in pensione, ha 80 anni e vive ancora a Protvino. Ma com'è possibile che sia sopravvissuto all'esposizione a un fascio di tale energia? D'altronde, i fasci di protoni vengono utilizzati anche per la cura di molte forme tumorali, con la differenza che vengono impiegate in energie inferiori e il fascio di particelle è altamente focalizzato sulle cellule tumorali. L'unità di misura della quantità di radiazione indotta ai tessuti nella protonterapia è il gray. Questa varia a seconda del tipo di tumore da trattare e dallo stato di avanzamento in cui si trova. La dose media per il trattamento di un tumore tipo cordoma va dai 70 agli 80 gray. Ovviamente questa non viene somministrata al paziente tutta in una volta, ma frazionata in 32 sedute, con una dose giornaliera intorno ai 2,3 gray, il tutto variabile da caso a caso, ovviamente. Ma la cosa che ci interessa sapere è il comportamento dei protoni quando entrano nel corpo. La loro peculiarità nei trattamenti tumorali risiede nel picco di Bragg. Nel grafico potete vedere il comportamento dei protoni. Penetrando nel corpo, essi depositano poca energia nei tessuti superficiali e solo ad una determinata profondità, che dipende dall'energia iniziale delle particelle, si ha il maggior rilascio di energia. All'inizio del suo tragitto attraverso il tessuto, il fascio di protoni è veloce, quindi la probabilità che interagisca con la materia è più bassa e di conseguenza il fascio procura un danno minimo alla porzione di tessuto che attraversa. Man mano che penetra i tessuti del paziente, però, il fascio di protoni perde energia perché viene progressivamente rallentato, fino al punto in cui le particelle cessano completamente di muoversi. In questo punto, detto picco di Bragg, tutta l'energia residuo delle particelle viene rilasciata e il danno provocato ai tessuti bersaglio è massimo. Questo fenomeno selettivo viene sfruttato nella protonterapia per rilasciare il massimo dell'energia solo sulle cellule tumorali. Variando l'energia dei protoni, è possibile rilasciare energie alla profondità in cui si trova il tumore. Per il trattamento dell'intero tumore, i piani di trattamento preparati dai fisici medici incorporano già le varie energie che devono essere applicate all'acceleratore. In pratica, sono utilizzati protoni a diverse energie con conseguenti picchi di Bragg a diverse profondità. Solitamente le energie massime coinvolte nella protonterapia variano dai 60 ai 250 mev in base alla profondità che si deve raggiungere. L'energia massima di 250 mev garantisce il rilascio della massima energia a una profondità di circa 32 centimetri nel corpo umano. Con questo esempio si può capire perché Anatolia è sopravvissuto. Un fascio di protoni da 70 jev non avrebbe avuto abbastanza materia davanti a sé per arrivare al potere d'arresto e creare il picco di energia che solitamente uccide le cellule tumorali nella protonterapia. Nella sfortuna questo fu un bene per lui perché un picco di Bragg da 70 jev avrebbe rilasciato una dose di circa qualche migliaia di grey e Anatolia non sarebbe sopravvissuto. Rimane ovvio che l'energia a cui è stata sottoposta la testa di Anatolia era talmente alta che i danni ai tessuti erano inevitabili. Ma c'è da dire che anche la fortuna ha giocato un ruolo importante e possiamo affermare che è stato immensamente fortunato a poterlo raccontare.